Ma dove andremo a finire se continua così, 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 così? Si sente spesso dire alla gente qua e là, qua e là, qua e là. Continua violenza, scatta l'improglie il mare, dove sono finiti i veri grandi ideali? E per il mondo si si dipinge a tinte scure, 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 scure. Si saltano e qui facce le scene crude, dure, dure, dure. Sono più facili successi, colpiglia, usa e getta, però mi si permettono e questa è la sola umanità. Conosco un'altra umanità. Quella che è spesso il mondo per la strada, quella che non grida, quella che non schiaccia bene le mette sull'altra gente. Conosco un'altra umanità. Credo, credo, credo in questa umanità. Credo, credo in questa umanità. che vive nel silenzio, che ancora se respira e sapaccia bene le mette sull'altra gente. Questa è l'umanità che mi fa sperare. Conosco un'altra umanità. Quella che ora va contro corrente, quella che sa dare anche la sua vita per morire per la propria gente. Conosco un'altra umanità. Conosco un'altra umanità. Credo, credo. Credo in questa umanità. Quella parte le proghiere, che pare a Ripersona, che produza archi ma �sà del cuore. Questa è l'umanità, che tiene nel amor. Credo, credo in questa umanità, credo, credo in questa umanità, che a parte del frontiere, che paga di persona che non usa altri, non so stare il cuore, questa è l'umanità che viene nel amore, questa è l'umanità che viene nel amore.